Monelle, racconti giovanili di Devana, l'ufficio. Sara, segretaria e unica donna della grande compagnia di assicurazioni, entra in ufficio una mattina di un giorno qualunque. È vestita in modo elegante e sobrio, come si addice a un'impiegata, è giovane ed efficiente, una persona solitamente tranquilla. Si stupisce molto perché, nonostante siano già alle nove, l'ufficio è completamente deserto. Sulle scrivanie degli altri dipendenti non ci sono borse né dossier, sull'attaccapanni neanche un cappotto. Capisce allora che non sono usciti a bere il caffè, evidentemente non si sono proprio presentati al lavoro. Un po' perplessa del fatto che manchino tutti insieme, decide che se la può cavare benissimo da sola. Si avvicina al calendario per staccare il foglietto della data e... Venerdì 13! Ah, dunque è per questo che non c'è nessuno. Pensa Sara sorridendo tra sé e meditando su quanto fosse stupido credere a certe superstizioni. Si leva il cappotto, appoggia la borsa e si rimbocca le maniche per mettersi al lavoro. Accende il computer per fare le prime registrazioni contabili e per sbaglio preme un tasto che dà l'input alla stampante. Questa comincia a stampare freneticamente un elenco lunghissimo di calcoli per finire il quale occorreva mezza giornata e che non c'entra niente col lavoro che lei deve fare. Allora prova a fermare il programma che però prosegue in perterrito. Dopo qualche minuto Sara spegne la macchina quando la riaccende col gioiello della tecnica riprende a stampare in perterrito. Squilla il telefono. Sara imprecando risponde. Cercano il direttore che non c'è. Buongiorno. No, no, non c'è. Domani, sì, lascia un messaggio. Un momento che cerco una penna. Non trova la penna. Rovistamenti vari e imprecazioni relative. Sì, mi dica. Intanto la carta della stampante si ammucchia per terra. Sara mette giù la cornetta. In quel momento entra un fattorino che le consegna un pacco di fotocopie da preparare entro mezz'ora per il capo. Sono 20 fascicoli da 40 pagine l'uno. Sara accende la fotocopiatrice e comincia a preparare i pacchetti da fascicolare uno dopo l'altro sul banco della reception all'ingresso dell'ufficio. Dopo qualche minuto dalla fotocopiatrice esce uno schizzo di polvere nera. Sara chiama al telefono il tecnico che non c'è. E per forza è venerdì 13. Allora telefona alla ditta che ha fornito la macchina e viene a sapere che bisogna smontare il raccoglitore della polvere di inchiostro il quale probabilmente sta traboccando. E' un lavoro da sporcarsi. Sara cerca un sacco nero dell'immondizia per coprirsi ma non ne trova. Allora prende due cartelloni bianchi, li graffetta sopra le spalle e ci infila la testa a mo' di donna hamburger. Apre la fotocopiatrice e uno schizzo nero le va sulla faccia. Squilla il telefono. No, qui è la fai! Ha sbagliato! Prego! Buongiorno! Imprecazioni senza ritegno mentre la stampante continua a sputare fuori carta. Sara ritorna a occuparsi della fotocopiatrice e in quel momento salta la luce. Entra un tecnico dell'Enel che vede Sara sporca in faccia e fasciata di carta che lo guarda torva. Scusi, è la fai? Il tecnico vuole sapere dov'è il contatore. Sara non lo sa perché di queste cose normalmente si occupa il custode che non c'è perché è venerdì 13. Cercano insieme nei vari stanzini. Trovano il contatore. Riparte la luce. La stampante è contemporaneamente il fax che emette un inquietante bip bip perché deve essere successo qualcosa durante il blackout. Sara cerca di farlo tacere mentre la carta si accumula sotto la stampante e la fotocopiatrice continua a vomitare polvere nera. Finalmente riesce a rimettere a posto quest'ultima e riprende a far fotocopi impignandole per terra. Ancora il fax. Sara passa correndo dal telefono che squilla in continuazione alla fotocopiatrice per cambiare la pagina da riprodurre e comincia a fascicolare. Si infila una graffetta nel dito. Bip del fax. Sara si avvicina e si sporge sopra la macchina per controllare la spina. Non si accorge che un lembo di manica della sua camicia è finito nel rullo della carta e nell'allontanarsi se ne strappa un pezzo. Viene il fattorino a vedere se sono pronte le fotocopie e trova Sara con la faccia nera avvolta nella carta e con una manica strappata. Seduta per terra tra pacchi di fotocopie, la carta della stampante sparsa sul pavimento un po' dovunque, il fax che continua a fare bip, il telefono che squilla e la fotocopiatrice che ogni tanto manda spruzzi di polvere nera. Torna fuori per leggere sulla targhetta della porta se alle volte non si fosse sbagliato di ufficio. Sara rientra e domanda timidamente sono pronte le fotocopie per il capo? Ah! Sara ruggisce e urla al fattorino una serie di imprecazioni irriferibili. L'uomo esce di corsa, spaventato, mentre Sara si alza da terra faticosamente guardandosi intorno in cagnesco. Camminando verso la stampante, inciampa nel serpente di carta che continua a fuoriuscire e cade malamente addosso al computer. Rovesciandolo, il computer comincia a fare bip bip impazzito. Sara lo guarda e legge sul video Disc Error Drive C. Oddio! Si è rovinata la testina! La parte del computer che legge il disco fisso è fuori uso, un disastro! La scritta continua a comparire, inesorabile, una riga dopo l'altra. Sara cerca di farla smettere schiacciando vari tasti di arresto, ma il computer continua. Urlando lo prende tra le mani, lo solleva e lo scaraventa sopra la stampante. E i due apparecchi vengono così, ridotti al silenzio. Squilla il telefono per l'ennesima volta. Meccanicamente Sara si avvia a rispondere, scivola sulla polvere d'inchiostro sparsa per terra. Finisce lunga e distesa sotto la scrivania. Da quella posizione solleva una mano. A cercare il telefono e se lo tira in testa. Alza il ricevitore, sibila la persona in attesa. FOTTITI! Prende il telefono e lo scaraventa contro il muro, riducendo all'impotenza anche quello. Si alza e, zoppicando furiosa, va verso l'estintore appeso al muro. Lo appoggia per terra, apre lo sportellino della fotocopiatrice, scoprendo negli ingranaggi. Dirige il getto dell'estintore contro la macchina, inondandola di schiuma bianca. Così, finalmente, anche questa tace. Intanto il fax continua a fare bip bip. Sara raccoglie malamente i fascicoli del capo, mezzi fatti, e ne infila una buona parte nel cassettino del fax, che serve per l'invio. Naturalmente questo si sfonda per il troppo peso. Ora stai muto anche tu! Gracchia Sara guardandosi intorno con una lucina assassina negli occhi. L'ufficio è distrutto e lei ridotta a uno straccio. Prende il cappotto e se lo infila sopra i residui di carta che le cadono di dosso a brandelli, esce dall'ufficio e sulla porta trova il capo che, avvisato dal fattorino, dei rumori sospetti è venuto a vedere che cosa sta succedendo. Senza dargli il tempo di fiatare, Sara gli dice «È tutto pronto, dottore! Buon lavoro a lei e agli altri dirigenti!» E si avvia verso l'uscita del palazzo zoppicando. Fine Grazie 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 Grazie